Arrestati dalla polizia stradale di Arezzo due trafficanti di droga, trovati in possesso di una pistola pronta per essere utilizzata e 125 grammi di stupefacente tra hashish e cocaina. L'auto è stata affermata intorno alle 19 e 30 da parte della pattuglia della polizia stradale di Battifolle. I due, ben conosciuti dalle forze dell'ordine, anche per gravi reati come rapina e sequestro di persona, hanno subito manifestato un grande nervosismo. Gli investigatori hanno dunque proceduto alla perquisizione dell'auto, hanno scoperto, occultata sotto il piantone dello sterzo, ma in una posizione prontamente accessibile, una pistola Tanfoglio calibro 45 con la matricola a brasa e con il colpo in canna, 100 grammi di hashish e 25 di cocaina e oltre 3.000 euro chiaro provento di spaccio. I due, di origine marocchina poco più che trentenni, sono stati arrestati per porto abusivo di arma da fuoco e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.